Sono una decina i rifugi gestiti dal CAI di Bergamo che in questi giorni inaugureranno una nuova stagione. Vanno dai 1939 metri dell'Albani, aperto dal 2 giugno, ai 2328 metri del Tagliaferri. Il rifugio Alpecorta Bassa è aperto dal 15 maggio. Fra questo fine settimana e i primi di luglio apriranno anche il Baroni, il Coca, il Curò, il Gerardi, il Calvi, i Laghi Gemelli, il Longo e il Bergamo. E invece è sempre aperto il bivacco Frattini al passo della Valsecca. Oltre ad essere importanti i presidi per la montagna, i rifugi negli ultimi anni sono diventati anche luogo di cultura e di formazione. I rifugi oggi sono anche dei presidi culturali, dei presidi ambientali e ci permettiamo anche di dire dei presidi educativi, inteso dei luoghi dove portando i nostri ragazzi, i nostri bambini insieme alle famiglie si può far vivere loro delle esperienze uniche, delle esperienze importanti per quanto riguarda il loro rapporto con l'ambiente e il loro rapporto con le altre persone. Fra le cose che pesano di più la manutenzione delle strutture. Nonostante il milione di euro stanziato dalla Regione per la loro messa a norma, il CAI di Bergamo ogni anno sborsa cifre notevoli per la sistemazione dei rifugi. Il CAI di Bergamo come da sempre cerca sicuramente quello di fare gli adeguamenti normativi per cui impianti elettrici, impianti di antincendio, tutti quelli che sono giustamente le normative dei locali pubblici. A questi si aggiungono anche degli interventi per migliorare la recettività, per rendere più confortevoli. La nuova stagione escursionistica riporta in primo piano anche il tema caro al CAI della sicurezza in montagna. Gli incidenti infatti sono più frequenti durante la bella stagione. Il Calopini italiano ha da sempre aperto e avviato delle iniziative per sensibilizzare la gente a muoversi con le gambe ma soprattutto con la testa. Proprio tra il 26 e il 27 giugno Bergamo ospiterà un convegno nazionale ed alcune manifestazioni su ferrate e sentieri dedicate alla sicurezza.